Questo è il matrimonio tra Elisa e Alessio. Si sarebbero dovuti sposare a settembre, ma hanno anticipato le nozze di un mese. A settembre sarebbe stato troppo tardi, hanno detto i dottori. Elisa è morta due giorni fa, a 40 anni, nell'hospice di Treviso, dove era ricoverata. Aveva saputo di avere un tumore al seno l'anno scorso. Destino beffardo perché la tremenda notizia l'ha avuta nel giorno più bello della sua vita, il giorno in cui ha partorito. Ogni parola in questa storia rischia di essere banale, ma il gesto compiuto da Elisa prima di morire è talmente bello che non può non essere raccontato. Ha fatto la mamma nel modo più incredibile che potesse fare. Si è messa davanti a un computer e dal suo letto di ospedale ha ordinato una serie di giochi per la piccola Anna. Una Barbie con la cucina, un puzzle, alcuni libri, un mappamondo di sughero dove segnare i posti visitati con il padre e da sola. Il corriere con i pacchi arrivava a casa Vincenzotto a giorni alterni mentre la donna era ricoverata. Alessio era all'oscuro di tutto e dopo aver chiesto spiegazioni alla moglie ha compreso le sue intenzioni. Elisa gli stava assegnando un compito importantissimo. Papà Alessio a ogni compleanno della figlia e a ogni Natale dovrà consegnare alla piccola un dono da parte della mamma fino al compimento della maggiore età, quando cioè Anna sarà abbastanza grande per capire quanto fosse speciale sua madre.